buonasera a tutti eccoci ritrovati di nuovo in un nuovo video news ragazzi questo è il nuovo item shop che è appena uscito allora è uscita di nuovo la vecchia ascia e sinceramente non è che mi gusta tanto mamma mia un'altra otta sto leader della squadra delle coccole che palle poi vabbè il range dell'amore è abbastanza carino dai mi piacciono tantissimo le ali ovviamente mettono sempre le cose con 2000 vbac allucinante ragazzi allucinante vediamo un po il ballo elettrico ma basta di nuovo le stesse cose però è uscito raccogli il set allacciato ragazzi oh ti danno tre zaini carino vero sto fatto eh carino 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 mi sa che il terzo zaino era quello zaino buggato quello che ti faceva vederla bravo si bravo 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 hai ragione poi c'è sex da matti va bene ve lo faccio vedere per le persone che comunque non lo conoscono l'agricognitore della giungla bello questo qua il problema sapete qual è che cambiano skin e tutto però mettono sempre la solita donna ma come cacchio è possibile ecco abbaglio è la stessa donna ovviamente con i vestiti diversi guarda caso stanno mettendo solo le donne chissà quanti perversi ci sono di fortnite comunque bene questo è l'item shop di oggi 29 quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video news ciao a tutti grazie a tutti